Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, torna in Abruzzo e domani sarà l'Aquila in vista delle elezioni regionali del 10 febbraio per sostenere il candidato presidente del centrodestra Marco Marsiglio e festeggiare il 25esimo anniversario del partito. Con lui ci sarà anche il presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha detto il coordinatore regionale e senatore della Repubblica, Nazario Pagano. Abbiamo pensato che tutti i comitati elettorali, sono oltre 30, aperti dai nostri candidati alle elezioni regionali diverranno dei punti d'incontro dove spiegare il perché dei gile azzurri, quali sono i temi, i valori nei quali crede Forza Italia. Domani Berlusconi non solo parlerà di questo, ma parlerà anche ovviamente di Abruzzo, parlerà di elezioni regionali, scende in campo all'Aquila, farà prima un incontro con le organizzazioni di categoria verso l'auditorium ANCE, non è un caso che andiamo proprio lì verso la sede dei costruttori, perché voi sapete che Forza Italia è sempre rivolta verso il mondo produttivo, il mondo delle imprese, dopodiché farà una visita presso uno degli insediamenti del progetto case, quello probabilmente di Sant'Antonio, dove ci sono alcuni residenti ancora dai tempi in cui furono affidate quelle case, subito dopo il terremoto del 2009 e poi nel pomeriggio incontrerà le tv, fra cui la vostra, nel pomeriggio presso un albergo dell'Aquila. Dopodiché probabilmente, secondo le sue volontà, vorrebbe tornare qui a Pescara il 2-3 febbraio, ma il programma ancora non è concluso, non è definito.